registrazione in corso, vediamo, valutazioni ma chi è chissi che hai chiamato 5 palli? fa lo buono Pio, fa lo buono Raffa un attimo Pio oh Pio vai verso? eh si dai uno me la faccio metto sennò non mi ricordo dell'udopia dati partita e venti partita ma c'è un ultimo colpa di mercato per me è mezzo